Pronto? Pronto. Ti piacciono i film dell'orrore? Numero uno, ci sono più vittime. Numero due, le morti sono più elaborate. Che cosa sa delle trilogie? Quello che so delle trilogie cinematografiche è che nel terzo episodio si chiudono i giochi. Ciao, Sidney. Benvenuta all'ultimo atto. Ragazzi, niente paura. Ragazzi! Fabi! Fabi! Gabriele cannon! Abone, Davide! Eee, grazie per la mia auto.